Maria Delebrusa, amministratore della TBM, dita che esiste dal 71, che si occupa di tintoria del tinge e tessuto. Per chi? Per i clienti del Made in Italy. I nostri clienti indirettamente sono le firme, i più bei nomi del Made in Italy e noi facciamo la nobilitazione tessile, quindi nobilitiamo il tessuto che scende dai telai e sarebbe inutilizzabile così allo stato come scende dai telai. Noi lo lavoriamo, lo laviamo, lo tingiamo, lo termofissiamo e lo rendiamo idoneo per confezionare i capi, quelli che sono l'eccellenza della produzione italiana di tessuti. Oggi contate 70 dipendenti circa. Come va il periodo, nonostante la crisi? Nonostante la crisi va abbastanza male perché il lavoro che si fa in Italia è il lavoro del pronto modo, è il lavoro che richiede una velocità di lavorazione che va rispettata. è l'unico lavoro che è rimasto. Grazie. 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 Grazie.